Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno, ha partecipato ai lavori del convegno promosso dal sindacato di polizia COISP dal titolo Legalità, parliamone. Per ribadire che... Si parla di convivenza civile e di difesa del senso di comunità e di appartenenza. Per questo questo governo ritiene fondamentale investire nella sicurezza, nel controllo del territorio, della prevenzione, del lavoro con le questure, con le prefetture e per garantire sicurezza e legalità la priorità è quella di rafforzare gli organici. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato 100 milioni di euro all'anno per 10 anni per rafforzare gli organici e le forze di polizia. La sicurezza non è mai un costo, ma la sicurezza è un investimento. Usciamo da anni di tagli alle politiche della sicurezza. Per questo governo non ci sono né tagli né chiusure, ma ci sono aperture di presidi di legalità, investimenti e risorse per rafforzare il comparto sicurezza-difesa. Ovviamente più uomini sul territorio, più pattuglio, vuol dire maggiore controllo del territorio. Da questo punto di vista l'impegno del governo è confermato ed è prioritario. Ai lavori sono intervenuti, tra gli altri, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il vicario del questore di Pescara Pasquale Sorgonà, Carlo Maria Parisi, segretario generale Fijek Sicizal e Domenico Pianese, segretario generale COISP. Sul presidio anche dei cittadini del territorio, Molteni ha ribadito che ognuno deve fare il proprio mestiere per evitare confusione, soprattutto. E perché? Dottor Calostato garantire sicurezza, ma è solo con la sinergia, con gli enti locali, con le prefetture, con gli amministratori locali e con i cittadini che si può avere un buon presidio, da questo punto di vista presidio in senso lato, di sicurezza sui territori. Sicurezza e libertà. Senza sicurezza noi non abbiamo libertà, noi non abbiamo investimenti e questo è il motivo per cui è dovere della politica e del governo investire sempre di più sulla sicurezza e sulla formazione dei nostri uomini e donne in divisa, che ripeto sono un'eccellenza di cui dobbiamo andarne fieri ed orgogliosi.